Raghi, in questo video diventerò da povera a principessa Nata da una famiglia povera, mi arriva una lettera che può cambiarmi la vita Tesoro, sto uscendo Mi raccomando, prenditi cura dei tuoi fratellini Io devo lavorare, lo sai Spero di trovare qualcosa di più stasera Oh, sì, mamma, tranquilla, ci penso io Beh, è già andata via Ah, beh, Bob, fai da bravo, mi raccomando Vado a controllare come sta il mio fratellino Ah, lui è malato da un po' di tempo Non riusciamo a prendere le medicine necessarie Stiamo sperando che si riprenda da solo Beh, mi sento meglio di ieri Jenny, infatti dovremmo proprio uscire, giochiamo No, Bob, non possiamo giocare E tantomeno non possiamo uscire E perché? Beh, perché Jack sta male, mica lo posso lasciare qui da solo Oppure andare fuori al freddo, ti pare? E perché? Perché starebbe ancora più male, che domanda è? E perché? Oh, ti devo spiegare tutto Perché il freddo ti indebolisce il corpo Va bene, quindi lui non potrebbe riprendersi Ma io voglio andare fuori Oh, non possiamo fare tutto quello che vuoi tu Eh, mio Dio ragazzi Tenere dei bambini è così strano È impossibile Che ne dici? Se mangiamo qualcosa? Buono cibo, va bene Ok, perfetto Fammi controllare se... Oh, il frigo è rotto Dimenticavo Eh, beh, abbiamo... Eh, del cioccolato Non sono sicura che sia una cena ideale Voglio la pizza No, Bob, non possiamo ordinare Lo sai che non abbiamo abbastanza soldi Guarda, c'è un pezzo di... Eh, non penso che tu voglia mangiare quel pezzo di pizza Penso che si sia malato così, Jack Quindi, no, niente pizza Mi dispiace C'è un cioccolatino Un gelato Eh, allora un panino Guarda, posso farti del latte caldo, va bene? È un'ottima cena Cosa? Ma non è una cena Ma la pena è una colazione Senti, Bob, ci dobbiamo accontentare Non è che posso inventarmi le cose Non abbiamo tutti questi soldi per comprare tutto quello che vuoi a cena Eh, allora trovali Io ho fame, fame, fame Oh, mio Dio Senti, sai che cosa? Resta qui Se no, non smetto di piangere Va bene, va bene Resta qui Penso sia ancora... Eh, l'orario giusto per andare alla messa dei poveri Non muoverti e guarda tuo fratello Ah, mio Dio Non ci credo che li sto lasciando da soli per fare questa cavolata Però, in effetti Anche io ho molta fame Non è che stiamo mangiando bene questi giorni Ah, fare tutta questa strada Si sono fatte le otto Però a piedi è troppo difficile Ci metto un sacco Spero ci sia qualcosa Scusate Sono Jenny, vi ricordate? No, vengo qui spesso Vi è rimasto qualcosa? Jenny? Oh, ciao, G Sei un po' in ritardo Posso darti mezza banana? Era l'ultima cosa rimasta Oh, Ronnie Grazie Ti ringrazio tanto Sei sempre un amico per me Però Non posso prenderlo Mi dispiace Non ti è rimasto proprio niente, Jeff? Mi dispiace, piccina Hanno spazzolato tutto Va bene Andrò a cercare nei cassonetti qui vicino Oh, raghi Sembra che hanno spazzolato tutto Davvero Non c'è nulla qui Beh, ho trovato una chiave inglese Magari almeno questo mi può aiutare No, non credo Non voglio essere quella persona che va a rapinare le case Meglio tornare a casa, insomma A mani vuote Mi dispiace per mio fratello Però penso che la mamma sia tornata a casa Beh, questo latte è ancora buono Oh, c'è della posta Attenzione cittadini di Brookhaven Il grande giorno è arrivato Il concorso di bellezza più atteso di sempre È arrivato Correte alla casa 24 per partecipare Chi vincerà avrà il titolo di Principessa di Brookhaven E vincerà 10.000 Robux Eh, vabbè, stupida pubblicità Lo sappiamo tutti che una cosa del genere Non potrebbe mai succedere a una famiglia povera Mamma, sono tornata Ci sei? Mamma? Jack Jack, rispondimi Rispondimi Oh, maledizione Dobbiamo correre in ospedale Oh no, mamma Io non ne avevo idea Ti prego, andiamo Beh, signora Tornerò tra qualche ora Per dei chiarimenti Sono qui da ora Che aspetto Dottore Dottore, dottore, dottore Come va? Che cosa è successo a mio fratello? Beh, per ora sta meglio Stiamo dando tutte le cure possibili Se vuoi puoi andare a vederlo Assolutamente sì Assolutamente sì Fratellino Mamma Che cosa diavolo è successo? Non abbiamo più i soldi per le cure Non so più che fare Abbiamo solo due giorni Prima che lo portino via Non ho idea di che fare E in più non trovo nemmeno Bob È scappato dalla paura Mamma, senti Non so come posso aiutarti in questo momento Però vado a cercare Bob Ho un'idea di dove può essere Il mio fratellino più piccolo Bob, Bob Che fine hai fatto? Guarda che fa un freddo cane fuori Non puoi mica stare qui Bob Tanto so che sei lì sopra Bob, va tutto bene? Dai, Bob Ti prego Oh mio Dio Mi hai fatto preoccupare Lo sai? Non devi fare così Nostra madre ha già tanti problemi Ma perché? Perché tutte a noi? È ingiusto Prima non abbiamo soldi E poi si amare al mio fratellone Bob, senti Certe cose succedono e basta Non è né colpa tua Né colpa mia Né colpa della mamma Però ho intenzione di far cambiare le cose Va bene Farò tutto il possibile Per renderti una vita migliore Per salvare il nostro fratellino In effetti Un'opzione ce l'ho Ho deciso Risponderò a questa lettera Chi se ne frega se sono povera Io ci proverò lo stesso A diventare una principessa Raghi Sono molto confidente Ora andrò a chiedere Un po' di persone Se posso lavorare con loro Cercherò di trovare un nuovo lavoro Così mi potrò prendere il vestito E fare questo cavolo di contest E provare a vincere Ad essere una principessa Su Brookhaven Insomma L'importante è Non perdere mai il sorriso Salve signor Franco Salve salve Sono qui per Chiedere se lei prende una ragazza A lavorare nel suo Sababar Certo Su mi aspetta Come dire Me la cavo molto bene solo Quindi scusami Ma No Oh si si figuri Non c'è problema In effetti mi aspettavo Di non riuscire ad averlo Al primo colpo Però Ho altre due possibilità Ragazzi Ci sono altri due posti Che conosco Che stanno assumendo Personale Potrei fare da parrucchiera Per questo studio Salve scusi Lei è la signorina Johanna Oh dimmi tesoro Come ti posso aiutare Un bel taglio Eh no sai In realtà io stavo cercando un lavoro Potrei lavorare qui come Non lo so Sente O posso imparare a tagliare i capelli Delle persone Mmm Come dire Vedi non so come dirtelo Tesoro Non ti posso proprio Assumere Spero tu capisca Oh si Non c'è problema Ragazzi Non so che fare Perché nessuno mi vuole prendere Non ha senso Tanto lo so Non mi prendono Perché sono povera Perché i vestiti non vanno bene Questo non va bene Oh una persona povera Non può fare niente Per questo no Ma non è vero Io so fare un sacco di cose Jack Tutto ok Oh Ronnie Come stai Mi dispiace Averti lasciato così L'altro giorno Senza dire nulla Ti vedo un po' giù Sì Sì Ero un po' affamata In più c'è mio fratello Che è all'ospedale Rischiamo di farcelo portare via E che non stia più A casa con noi In più a casa Non abbiamo abbastanza soldi Per campare Ho trovato una lettera E ho pensato di provarci Ma sto per buttare l'idea È un contest per diventare La principessa di Brookhaven Però se non ho soldi Non ha senso Non posso prendere il vestito Non posso truccarmi Non posso fare nulla Ehi Forse Forse qualcuno sa come aiutarti Avresti dovuto chiedere a me Ma non preoccuparti Ti perdono Oh hai ragione Tu sei il mio miglior amico Alla fine Assieme facciamo tutto Dimmi un po' Che cosa Che cosa hai intenzione di fare Sai Questa signora è qui È in debito con me Sono sicuro Che sarà molto felice Di aiutarti col vestito Su andiamo Oh salve Lei è il signor Franco Oh ciao Ronny Da quanto tempo Che ne dici di questo Forse è un po' troppo normale Cioè carino Molto formale Ma non da principessa Questo Sembra che sono una buttafuori Non mi convince Mi dispiace Almeno non per questa occasione Oh ho capito i tuoi gusti Lascia fare a me Tada Wow ma è perfetto Ragazzi è esattamente quello che stavo cercando Hai finalmente trovato ciò che cercavi Oh sì è bellissimo Franco mi raccomando Ti prego custodiscilo fino a stasera Certo cara Ma dimmi un po' Nel caso diventassi principessa Beh che farai? Beh la prima cosa è andarmene da qui Voglio una casa Una casa vera Con la mia famiglia Un posto dove possiamo stare bene Dove mio fratello può stare bene Insomma Una nuova vita Sarebbe davvero bello per me Capisco Beh sì Te ne andresti È ragionevole Beh allora speriamo che andrà tutto bene Lo spero anch'io Anzi Ora vado ad avvisare mia mamma Che ci parteciperò Eh Ronnie grazie di tutto Di nulla Mamma mamma Non puoi capire la notizia Mamma mamma Oh non devo urlare nell'ospedale Mamma Fratellino Ma che cavolo Erano qui un secondo Eh? E tu chi? Eh? Ma che cosa è appena successo? Dove vi trovo? Ronnie? Eh ciao Jenny Mi dispiace ma Dovevo farlo Non mi rimane niente Prometto che troverò una soluzione Per tuo fratello Me ne occuperò io E nessuno E dico nessuno Se ne andrà mai via Ronnie? Oh mio dio ragazzi Il mio amico è impazzito totalmente Era la mia unica soluzione Per un attimo Pensavo di avercela fatta Era così vicino Almeno avrei avuto una chance Magari non avrei mai vinto Quello stupido contest Però Almeno potevo crederci E invece adesso sono qui E chissà che cosa succederà A mio fratello E a mia mamma Tutto per Colpa di quello stupido Ronnie Pensavo mi volesse dare una mano Oh ragazzi Sono un fallimento Non so che cosa fare Se solo trovassi un modo per uscire Ma È impossibile Aspetta Ma io ho trovato qualcosa di utile Nell'immodizio di oggi Spero che mi aiuterà con questa stupida porta Oh Si è aperta Ragazzi non ci posso credere Ora è arrivato il momento Di farla pagare a Ronnie Non posso uscire dalla porta principale Me la dovrò cavare qui sotto Ci sono Sono fuori Manca pochissimo tempo Al provino Devo sbrigarmi Devo andare a prendere quel cavolo di vestito Ehi signor Franco Oh mio dio Non c'è Sicuramente anche questa è opera di Ronnie Beh me lo troverò da sola Ho paura di non trovare tutti i pezzi Però almeno la parte di sotto Ehm Tadà Beh diciamo che mi devo accontentare di quello che ho trovato Ragazzi sono già in ritardo E se non ce la faccio Beh pazienza Ho dato il tutto per tutto per la mia famiglia Sono arrivata Aspettatemi Cosa? E chi sei tu? Una principessa che non arriva puntuale Inaccettabile Che ci fai qui? Lo so ho avuto dei problemi Però la prego Mi dia una chance Non ne meriteresti nemmeno una Però vabbè Tanto siete solo in due Dimmi che cosa rappresenta il tuo vestito Il mio vestito Doveva rappresentare qualcosa Ehm In pratica sono una povera Che diventa principessa Cioè nel senso Ehm Ok Ok Calmati Calmati Posso inventarmi qualcosa Il mio vestito rappresenta l'unione Tra la principessa e il suo popolo Ehm Che praticamente Se quando tu diventi una principessa Devi comunque essere umile Ehm Gentile con i tuoi sudditi Un mix Wow Allora avevi davvero qualcosa da raccontare Qualcosa di così profondo poi L'altra ragazza ha solo detto Che il suo colore preferito È il blu Mi hai stupito Penso proprio che la vincitrice Sia tu Oh mio dio Grazie io non so come ringraziarla Ronnie No Non è accettabile Tu dovevi rimanere qui Dovevi stare con me Oh Ronnie Se solo tu mi avessi trattato decentemente Probabilmente io ti avrei addirittura portato con me la mia famiglia Ti rendi conto che sono io a decidere del mio futuro E non tu Anche se le cose non ti stanno bene Quello che hai fatto è davvero orribile E non te lo perdonerò mai E ora scusami ma ho mio fratello da salvare Oh mamma mamma dimmi che ti prego È andato tutto bene Che non hanno ancora preso mio fratello Oh mio dio C'è una poliziotta Jack Lo lasci Mi faccia passare Sto portando via questo ragazzino Non se ne parla Non se ne parla Quello è mio fratello Avete avuto abbastanza tempo Abbiamo ripetuto mille volte Che se non aveste avuto i soldi Per curarlo Lo avremmo preso Ma ce li abbiamo Ce li abbiamo Appena vinto un contest Sono ufficialmente La principessa di Brookhaven Quindi può lasciare mio fratello Ho 10.000 robux da darle ora Quindi lei mi può assicurare Che può pagare le cure Assolutamente sì Tutte le cure che mio fratello ha bisogno Perfetto Tornerò tra una settimana Oh mio dio Grazie Non ci credo Ci sei riuscita Sì mamma ce l'ho fatta Non potevo lasciarvi così Ora finalmente potrò farti sentire meglio E soprattutto sono riuscita a riunire la nostra famiglia E adesso abbiamo un castello Ecco qui Questo è il castello di cui parlavo Non siete contenti? Non vedo l'ora di giocare Beh allora entra Visto che ti senti meglio E andiamo Oh ragazzi Sono riuscita finalmente A diventare una principessa E soprattutto A far stare bene la mia famiglia E ora Che cosa potrei diventare Su Brookhaven Raghi scrivetemelo nei commenti